Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Radio Studio 3, Cristina da Firenze Ricetta del cuore, asparagi alla paprika 1,8 kg di grossi asparagi 10 cm di panna liquida 2 cucchiai di aceto di mele 1 cucchiaino di paprika Erba cipollina tritata Sale Per la maionese 1 tuorlo d'uovo 1 cucchiaino di aceto di mele Sale 1 peperoncino rosso in polvere 3-4 cucchiai di olio di mais Dedicatevi anzitutto alla preparazione della maionese Facendo attenzione a che gli ingredienti E particolarmente le uova Siano a temperatura ambiente Così da non compromettere la buona riuscita della salsa Mettete in un recipiente il tuorlo d'uovo L'aceto di mele 3 prese di sale E un pizzico di peperoncino Mescolate con la frusta E incorporate l'olio goccia a goccia Continuando a girare la frusta Con un movimento lento e regolare Se il composto tendesse a espessirsi in modo eccessivo Aggiungetevi qualche goccia d'aceto E continuate a versare l'olio Sino a quando avrete la quantità di maionese che vi serve Quando questa è pronta Passate a preparare una salsa Mescolando la panna, la maionese, l'aceto e la paprika Cercate di evitare che risulti troppo densa E se fosse necessario Allungatela con un poco d'aceto Aggiungete l'erba cipollina tritata Solo all'ultimo momento E passate infine a occuparvi degli asparagi Mondateli e cocceteli in abbondante acqua salata Scolateli prima che la cottura risulti eccessiva E lasciateli infine intiepidire Prima di portarli in tavola con la salsa Grazie